Nella giornata di sabato 8 febbraio il Ministero della Sanità ha diramato una nuova circolare per fornire indicazioni aggiornate su come gestire nelle scuole i problemi legati alla epidemia da coronavirus. La circolare impartisce disposizioni precise. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell'imminente rientro scuola di un bambino o di uno studente proveniente dalle aree della Cina interessate dall'epidemia deve informare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di riferimento. A questo punto il Dipartimento, in stretta collaborazione con la famiglia, mette in atto quella che il Ministero definisce una sorveglianza attiva quotidiana per la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi. Il monitoraggio continua nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree a rischio. Il Ministero chiarisce anche che resta fermo il diritto inalienabile di bambini e ragazzi di qualsiasi nazionalità di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, anche se si suggerisce poi alle famiglie di tenere a casa bambini e ragazzi per un paio di settimane. Si tratta di una modalità finalizzata chiaramente ad evitare che iniziative più rigide possano essere interpretate come misure discriminatorie verso particolari fasce della popolazione, soprattutto non italiana. Ma forse proprio sull'affidarsi quasi esclusivamente alla buona volontà delle famiglie, le intenzioni del Ministero mostrano qualche segno di debolezza in termini di efficacia dell'intervento. Tanto che da più parti, come ha fatto per esempio Italia Viva, si sta facendo osservare che non è ragionevole scaricare sulle famiglie una decisione dalla quale dipende la sicurezza di tanti altri alunni. La Ministra Azzolina però ha fatto una precisazione che potrebbe significare che almeno in alcuni casi si possa prevedere qualche forma di allontanamento dalla scuola. Si può impedire ad un alunno di frequentare la scuola, dice infatti Azzolina, solo nel caso in cui i medici delle ASL rilevino delle controindicazioni. Intanto, sempre con lo scopo di evitare la diffusione di informazioni sbagliate, a Sesto Fiorentino e in altri comuni limitrofi, giovedì 13 nelle mense scolastiche verrà servito un menù cinese che, come dire, il coronavirus non ha nulla a che vedere con il cibo. Il contagio avviene in altro modo. Su questo tema noi continueremo a tenervi informati quindi seguiteci sempre su questo canale e anche nel nostro portale www.tecnicadelascuola.it Soprattutto continuate a scriverci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.